Siamo nell'area attrezzata di San Pio X, un bel polmone verde che adesso si è completato. Sessore Alberghini? Sì, abbiamo riqualificato quest'area che aveva bisogno di una presenza e di un presidio, attrezzandolo apposta per i giovani, stanziando una quota di bilancio comunale per le politiche giovanili. Assieme al Forum dei Giovani abbiamo realizzato quello che loro hanno valutato essere la richiesta dei giovani in questo momento, anche a seguito del Covid, cioè un'area attrezzata per fare attività sportiva all'aperto, che potesse diventare un punto d'incontro. Sono qui presenti una rappresentanza del Forum dei Giovani e quindi lascio la parola al Presidente Giacomo Gasparetto. Ecco, Giacomo, che cosa ci dici? Che siamo contenti di essere qui, soprattutto per il risultato che stiamo vedendo in questi giorni. Molti giovani che si fermano e si allenano e molti anche passanti incuriositi che dicono perché non crearlo anche nel nostro parco cittadino e di quartiere. Insieme a me ci sono altri ragazzi del Forum dei Giovani, che è un organismo comunale che raggruppa giovani nella città dai 14 anni ai 35 anni e hanno portato le loro idee per realizzare proprio quest'area. Marco Zanella e Laura De Focatis. Eccoci. Marco? Questo progetto cade in un contesto più ampio che coinvolge anche diverse associazioni, tra cui la nostra e soprattutto la parrocchia di San Pio X e questo è solo l'inizio, poiché oltre a quanto già stato realizzato ci saranno anche degli interventi di pittorica sul manto stradale e altre attività di questo tipo. Un saluto anche da parte tua. Un caro saluto a tutti e speriamo che vi piaccia questo piccolo ambiente di qualificazione.